simbolo se vogliamo dello sport Femi Ogunode nigeriano del Qatar è in straordinaria condizione di forma buona condizione di forma, l'aveva fatto vedere su una pista decisamente meno reattiva di questa e con vento anche più contrario di questo Federico Cattaneo che viene dagli europei under 23 di qualche mese fa, Ramon Gittens però c'è Safo Antti qui andando ai triplisti peccato non vedere tra gli otto, tre italiani di livello internazionale non ci sono, infortuni, acciacchi e rientri però Stefano Magnini che farà il Decanation sarebbe stato bello vederlo qui, stesso discorso per Tobia Bocchi che è un ragazzo promettentissimo, neoprimatista italiano junior, risultato quel primato italiano junior, arrivato ai campionati italiani assoluti di Torino. Siamo notizie Dino sul recupero di Greco? Greco abbiamo proprio visto ieri, l'ho visto personalmente a eseguire delle azioni tecniche di balzi rimbalzati sull'erba ma usando bene tutti e due i piedi, ha ancora diciamo il recupero completo, il recupero fisico fisiologicamente, il recupero atletico in senso stretto è in fase di completamento, tra poco potrà cominciare la preparazione tecnica in senso stretto, ho visto dei bei balzi, bene e l'articolarità è quasi recuperata del tutto quindi siamo fiduciosi. Insomma porti anche delle buone notizie, sei l'attore di buone notizie. L'attore della presente sì, l'abbiamo proprio visto ieri. No, no, vogliamo l'attore del futuro, no della presente perché con lui penso si faranno belle cose, sta anche ristrutturando un po' la sua... Di salto? No, la sua gestione della... Tecnica. Organizzazione tecnica e di vita. Perché sapevamo di Christian Taylor che aveva avuto un problemino e cosa ha fatto? Ha cambiato tutto, stacco con l'altro piede ed è arrivato a risultati ancora migliori di quando vinse l'oro a Londra 2012, una cosa inusitata. Sì, è l'eccezione alla regola. Lui è un fenomeno, uno che fa 44 alto sui 400 e fa il triplo. Ma su Greco siamo fiduciosissimi. Altra eccezione di altissimo livello alla regola italiana che in questo momento ci sono pochi risultati, se solo fosse in campo lui ci lamenteremmo meno. Federico Cattaneo, Riccardi di Milano ancora sia uno. Sean Safo Antwi, Gran Bretagna, Ramon Gittens, Barbados, Femio Gunode, Qatar, Nesta Carton, campione del mondo di saspetto. Sean McLean, Solomon Bocari e Lorenzo Bilotti. Quanta, quinta e sesta. E c'è Ugu 9 che continua, manda un bacio alla tribuna, fa 9,99. Ha mandato un bacio alla tribuna, ha fatto 9 periodico. Fantastico, ha dato spettacolo. Tanto domenica scorsa a Pado che qui il vento meno caro uno, il significante Femio Gunode. Baci la manda un bacione a Rovereto e fa 9,99. Adesso se ci beffa il cronometraggio che arrotonda 10,00, no, dovrebbe essere 9,99 e rimanere tondo. Questo è un risultato strepitoso. No, 10,00, no. No, l'hai chiamato, lui perché non doveva mandare un bacio. Va bene, comunque 10,00, va bene. Ha dato una dimostrazione, guardate la fase finale, quando poi si girerà verso la tribuna per mandare baci a bracci. Qui ha una, riesce a mantenere una bella ritmica. Lanciato è finale micidiale. Eccolo qua, ha dato un bacio alla tribuna, una corsa al bacio dai. Corsa molto fluida. un grandissimo, grandissimo di bestia. Femio Gunode. Guarda come lui riesce a stare composto e avere, addirittura si lascia portare via gli ultimi dieci metri. Che non necessariamente si perde moltissimo. No, però ragazzi, però spettacolo ne ha dato perché fa dieci tondi tondi, con un filino di vento conto. Nettamente il miglior risultato. E con il saluto alla tribuna mandando bacio. Poi Nesta Carter, giamaica, 10,14, il campione del mondo, il campione olimpico della staffetta a 4 per cento, con Yusei Volte e compagnia corrente. E attenzione cosa fa? Barbados, Ramon Kittens, 10,26. 25. A presto.